Giovanni Bosco è il motociclista che ha perso la vita in un tragico incidente lungo via Cimina a Caprarola in provincia di Viterbo. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato scorso 11 maggio in località San Rocco quando la sua moto è entrata in collisione con un furgone. Purtroppo il 61enne è rimasto gravemente ferito e non è sopravvissuto. Giovanni, un brigadiere dei carabinieri in pensione, ha dedicato anni di servizio a Nepi e Civita Castellana nel Viterbese. La sua improvvisa scomparsa ha rapidamente raggiunto la comunità che si è unita nel dolore intorno alla sua famiglia, in attesa del nulla ossa per la salma e dei funerali. L'impatto è stato devastante. Sbalzato dalla sella alla moto ha preso fuoco. Il personale sanitario è intervenuto prontamente dopo la chiamata al numero unico dell'emergenza 112, mentre un'eliambulanza è atterrata sul luogo del sinistro, ma purtroppo ogni tentativo di salvarlo è stato vano. Grazie. 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 Grazie.